Oltre ai maturandi, anche gli studenti universitari sono impegnati con i loro esami. A Brescia alcuni giovani non vedenti e ipovedenti potranno studiare in università utilizzando due nuove postazioni informatiche all'interno dell'Ateneo. Venerdì scorso, durante un convegno nazionale dedicato alle disabilità, sono state presentate le apparecchiature donate grazie al progetto UNELEO4LIGHT, seguito dai giovani Leo delle province di Bergamo, Brescia e Mantua. Daniela Fiordalisi oggi ha mostrato a tutti come funziona questa postazione informatica, ma qual è l'idea o perlomeno il parere che esprime su queste tecnologie? Io sono attrezzata a casa per tutte queste tecnologie che sono veramente, come ho detto anche in conferenza, è una svolta da una decina di anni a questa parte per la nostra vita di non vedenti autonoma, specialmente per chi lavora e per chi studia. Adesso, grazie a ELEO, avere una postazione in università dove io, come tutti gli altri, posso portare la mia chiavetta e i miei libri, mettermi al computer e studiare nell'ambiente raccolto di un aula studio, e condividendo anche i momenti con gli altri compagni, è una specie di sogno che si realizza, una cosa molto bella per me e assolutamente non scontata. Tra l'altro, mi sento di dire che l'Ateneo Bresciano, l'Università degli Studi di Brescia, per quanto riguarda la mia esperienza, ma credo che sia abbastanza comune se ci sono altri studenti disabili qua a Brescia, è veramente estremamente sensibile e disponibile, nel senso che anche laddove, per una mancanza di informazione, che comunque è diffusa, non è colpa dell'università in sé, siamo noi che andiamo a chiedere, loro sono assolutamente disponibili e ci accontentano in tutto, quindi va molto bene, è molto bello questo. Anna Fidanza, presidente del distretto 108 IB2 ELEO, chiaramente oggi è una giornata importante, e questa inaugurazione dà anche la possibilità di poter vedere un lavoro che si concretizza. Grazie. Sì, oggi finalmente abbiamo ottenuto i primi risultati, si vedono concretamente i risultati del nostro progetto, che stiamo portando avanti da due anni. È un progetto che prevede la raccolta fondi di 500 mila euro in tre anni e utilizzeremo questi fondi per creare delle postazioni telematiche analoghe, per non vedenti analoghe a quella di oggi che abbiamo inaugurato a Brescia, in tutte le università d'Italia, almeno una per regione. L'obiettivo non è solo questo, quindi di fornire strumenti tecnologici all'università, ma è nell'ambito di un progetto molto più grande, quello di coordinare a livello nazionale, e finalmente anche la produzione dei testi universitari e non che servono agli studenti. La prima postazione informatica, Unileo 4 Light, è stata aperta a Palermo lo scorso 19 gennaio. Ora si guarda alle altre province della Lombardia, in particolare a Bergamo, dove l'obiettivo è quello di poter aprire nuove postazioni informatiche.